Sei ordini artigianali ad alto potenziale offensivo del tutto simili a quelli utilizzati in recenti attentati dinamitardi sono stati ritrovati dai carabinieri in una tenuta alla periferia di Foggia. Dovranno rispondere della loro detenzione quattro persone finite agli arresti anche per possesso di munizioni e stupefacenti. Potrebbero essere ad una svolta le indagini per risalire ai responsabili dei numerosi episodi intimidatori ai danni di aziende e attività commerciali che nell'ultimo mese hanno fatto precipitare nella paura il territorio di Foggia. Oltre ai sei ordini esplosivi seppelliti in un terreno di pertinenza dell'immobile i militari hanno sequestrato anche sette chili di marijuana custoditi in un secchio nascosto in un ricovero per animali, un centinaio di artifici pirotecnici, 177 munizioni di vario calibro e materiale utile per la produzione di altri ordini artigianali. Gli artificieri intervenuti da Bari hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto il materiale ritrovato dai carabinieri. Grazie 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 a tutti